amiche amici bianconeri buon mercoledì 8 settembre a tutti tre gran minuti che voglio dedicare all'avvicinamento alla sfida napoli juventus una sfida che presumibilmente sarà condizionata da un regolamento evidentemente iniquo che può condizionare non solo la sfida ma un intero campionato di questo ne ho parlato nell'articolo uscito sul mio sito www.lucagravilini.com sul mio blog personale su facebook articolo che se non avete letto vi invito a andarvi riprendere e a leggere e che volevo commentare qui in questo video con voi anche per chiarire alcuni spunti che alcuni hanno male interpretato ma se siete qui su questo canale e siete tifosi della juventus e ancora non vi siete iscritti mi raccomando fatelo azionate la campanella delle notifiche tenetela appunto attiva per rimanere ragionati su tutti i futuri contenuti che pubblicherò su questo canale sono al lavoro per realizzare e regalarvi altre sorprese in fondo la puntata se questa sarà stata di vostro gradimento mi raccomando non dimenticate di mettere like al video dicevo sfida di avvicinamento della juventus al diego armando maradona sabato ore 18 in situazione di assoluta emergenza all'emergenza già conosciuta ovvero la mancanza dei cinque sudamericani danilo quadrado bentancur alexandro e paolo dibala si aggiunge la possibile assenza per infortunio e quindi in questo caso causa fortuita e quindi purtroppo situazioni che si possono verificare quando giocatori rispondono le chiamate in nazionale di federico chiesa che ha subito un risentimento al flessore della coscia le sue situazioni le sue condizioni saranno tenute monitorate e rivalutate per capire se potrà essere disponibile per la sfida contro il napoli ma al netto dell'eventuale assenza di federico chiesa la juventus si presenterà al diego armando maradona priva di certamente dei sudamericani perché arriveranno torino soltanto poche ore prima della sfida contro il napoli e quindi non disponibili per l'allenatore massimino allegri ora nell'articolo ovviamente ho parlato di fastidioso silenzio della juventus perché credo che ci sia al di là di tutto anche una tutela nei confronti del tifoso bianconero che troppo spesso si sente attaccato o vede gli altri presidenti delle altre squadre attaccare la propria squadra e diciamo subire in maniera passiva da parte della propria società della juventus appunto in senza batter ciglio senza proferir parola e quindi diciamo che se è vero che in spagna il la sfida civile barcelona per lo stesso motivo per il quale la juventus non potrà disporre dei sudamericani le squadre non potranno disporre dei loro sudamericani questa sfida è stata rinviata era diciamo quantomeno auspicabile che questo potesse riguardare per lo stesso motivo anche la juventus sono stato criticato perché evidenzio questo in riferimento alla juventus quando la stessa situazione poteva essere relativa ad altre squadre e allora tengo a precisare che ovviamente io mi riferisco alla juventus io tratto del mondo juventus e ho parlato dello specifico di napoli juventus ma ho anche scritto che in situazioni come questa vanno ad influenzare e a determinare un campionato non riferendomi al campionato della juventus ma un campionato in in senso generale e quindi è chiaro che questa situazione che riguarda nello specifico la juventus può riguardare altre squadre e per lo stesso motivo sarebbe opportuno che gli organi federali le istituzioni nella fattispecie la figici e la lega serie a prendessero in considerazione situazioni come queste che sono situazioni diciamo straordinarie e diciamo eventualmente considerassero la possibilità di un rinvio della partita che come dicevo juventus e napoli vedrà una squadra con almeno cinque giocatori possibili titolari assenti nel corso del match a questi non non si è aggiunto weston mckennie per che è stato sospeso dalla federazione statunitense e quindi rispedito a casa anzitempo e quindi eventualmente sarà disponibile qualora la juventus lo riterrà opportuno per la sfida altrimenti sarebbero stati sei potenziali titolari oltre il 50 per cento di una di una formazione che non avrebbe potuto prendere parte di una sfida così importante juventus che già ha cominciato il proprio campionato non sotto la miglior stella che già si trova a dover reagire e dare una sterzata per non perdere ulteriore terreno dalla vita della classifica e per non dover poi rivedere le proprie ambizioni juventus è che in questo caso non viene tutelata ripeto dalle istituzioni dall'organe dagli organi federali e quindi volevo sottolineare questo questa situazione questo fastidioso silenzio perché il tifoso poi è chiaro che non è solo colui che porta diciamo colui da spolpare da vendergli il biglietto l'abbonamento il merchandising il nel giorno della partita o anche nel corso dell'anno è anche colui che ti permette di incrementare il tuo fatturato è colui che ti permette di portarti al top in italia e di inseguire i top fatturati europei e quindi è lecito e legittimo che vorrebbe una società meno passiva e che possa far sentire maggiormente la propria voce a fronte di situazioni come questa ripeto che sono certamente situazioni di assoluta iniquità e quindi la juventus pur sapendo che tiene una linea da sempre perlomeno nel recente passato di chiamiamola così di passività di accettare quelle che sono i regolamenti e quelle che sono le situazioni l'evolversi e degli degli eventi regolare degli eventi ecco il tifoso vorrebbe invece vedersi maggiormente cautelato perché e ho aggiunto non per insinuare la cattiva fede la malafede del magistrato napoletano carmine volpe che ha annullato una giornata di squalifica dosi men che quindi potrà prendere parte alla sfida non per mettere in cattiva luce in malafede i motivi personali che hanno consentito a lorenzo insigne di saltare la terza partita nazionale e quindi di presentarsi eventualmente alla sfida un po più riposato perché ci saranno certamente motivi validi motivi personali che hanno costretto il giocatore a lasciare anzitempo il ritiro del nazionale ma era solo per evidenziare come ho scritto nel mio articolo pensate se tutto questo unitamente agli assenti dovuti al ritardo nel rientro dalle nazionali fosse capitato a parte che cosa sarebbe scaturito che cosa sarebbe esploso sia a livello mediatico sia a livello di social sia a livello degli stessi presidenti che spesso e volentieri hanno attaccato la juventus rea di manipolare i poteri forti rea di essere padrona e di decidere a proprio uso e consumo come diciamo sviluppare gli eventi tutto questo mi sembrava legittimo evidenziarlo mi sembrava opportuno farlo e quindi l'articolo il fastidioso silenzio della juventus che tratta appunto tutto questo lo fa semplicemente perché si vorrebbe una volta tanto che la proprietà la società tutelasse maggiormente in ragione di una maggiore equità e di un non indirizzare in maniera come dire pericolosa un campionato che non è solo quello della juventus ma è un campionato in generale si vorrebbe che facesse sentire la propria voce e chiedesse semplicemente una certa regolarità nel giocare le sfide sfida che che del diego armando radona che certamente non potrà essere considerata una sfida regolare vedendo la juve che stipendia i propri calciatori privata di questi sudamericani che rientrano tardi dal ritiro del dalle convocazioni alle loro nazionali chiudo con una cosa finale su weston mckenny ieri articolo uscito sempre sul mio sito il salvato e soldato mckenny nel quale si trattano diciamo le mancanze a livello di comportamentale dell'americano anche qui critiche perché si è ingigantito una situazione fondamentalmente sciocca quella di aver posato senza mascherina per firmare degli autografi o per qualche selfie con con i tifosi beh emergono situazioni ben più gravi da parte dell'americano nei suoi comportamenti poco professionali per avere evaso la bolla almeno in un paio di circostanze e quindi essere venuto meno diciamo al protocollo anti covid in più di una circostanza con comportamenti ripeto che da calciatore professionista hanno del calciatore professionista hanno poco weston è stato si spera richiamato all'ordine si spera che possa rientrare quanto prima all'ordine e a tenere un comportamento consono a quello di un professionista che vuole raggiungere determinati livelli nel gioco del calcio io a voi lascio i commenti qui sotto vi do appuntamento ai prossimi tre gran minuti buona serata vi abbraccio e sempre forza io iscrivetevi al mio canale youtube mettete like al video seguitemi su social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video ciao